Come curare e attivare il pancreas per quadruplicare la combustione del grasso Il pancreas svolge un ruolo importantissimo nel nostro organismo, tiene in armonia tutti i tessuti e gli organi, gestisce tutte le categorie di sostanze nutritive ed è il responsabile della nostra capacità di assorbire e immagazzinare le sostanze nutritive. . Ridurre il consumo di zuccheri raffinati e aumentare il consumo di determinati alimenti può proteggere e curare il pancreas, che è importante anche nella perdita di peso. . Di seguito ti suggeriamo tre bevande che possono curare e attivare il pancreas, aumentando la combustione del grasso. Caffè. Questa bevanda riduce le oscillazioni di zuccheri nel sangue del 50%. Grazie allacido clorogenico che migliora la sensibilità delle cellule allinsulina. . Il resveratrolo contenuto in 150 ml di vino rosso può rendere le cellule dei muscoli del 150% più sensibili allinsulina. Si suggerisce di bere vino rosso, particolarmente ricco di resveratrolo. . Cacao. Anche alcuni composti contenuti nel cacao rendono le cellule dei muscoli più sensibili allinsulina, migliorando le capacità del fegato di processare gli zuccheri nel sangue. Prepara una bevanda a base di latte di mandorla e cacao in polvere, senza zuccheri aggiunti. . . .